Il grano La pietra mobile di sacerario, la pietra che può arrivare a 90-100 giga al minuto E da qui esce farina, la vera farina integrale che noi definiamo a tutto corpo Cosa che purtroppo non può avvenire nella macinazione industriale La pietra mobile di sacerario La pietra mobile di sacerario La pietra mobile di sacerario La pietra mobile di sacerario